ciao ragazzi ciao ragazzi e ragazze vabbè ciao a tutti stiamo qui in macchina si ho fatto di nuovo spese si greta siamo andata la profumeria greta abbiamo preso due gloss vi faccio vedere il primo questi sono della l'oreal si due gloss uno sul rosino il eccolo qua il 300 e 6 e poi ho preso quello lì trasparente il numero 300 numero 310 questi gloss li utilizzerò per fare dei effetti speciali per quando riguarda il body painting e il cinematografico per fare gli effetti sangue con altri prodotti mescelati insieme ragazzi ciao 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 ciao